Presidente, come sono queste prime ore, prime giornate di contatto con questa nuova veste che ha assunto? Abbastanza impegnative, perché ad un'agenda già abbastanza impegnativa adesso dobbiamo aggiungere altre cose, quindi scoppia di salute. Tecnicamente quali sono i passi nei quali si sta muovendo? Io penso che in questa prima fase occorra ascoltare, cercare di capire, portare avanti gli impegni che la Fondazione si è già assunta e poi quando faremo il bilancio preventivo dei prossimi anni faremo una sintesi di quello che è emerso e quindi daremo delle indicazioni. La Fondazione penso dovrà essere attenta a quelle che sono le attuali esigenze, a quelle che prevede per il futuro e in questo senso dare il suo contributo, come ha sempre fatto. Cosa vorrebbe metterci? Il suo bagaglio professionale, culturale e personale? Io voglio continuare a mettere nella Fondazione l'impegno e la passione che mi ha sempre animato in tutti i ruoli che ho ricoperto negli anni all'interno della Fondazione, perché penso che tutto debba passare comunque attraverso la passione. Quale sarà la prossima sfida con la quale si dovrà cimentare? Quale sarà la prossima sfida? Non lo so, ma certamente il pensiero fisso è la reddittività del patrimonio. Oggi abbiamo un patrimonio liquido importante, inevitabilmente risente di quello che succede a livello internazionale. La Fondazione è parte di Fano e Fano è parte della Fondazione, è un doppio binario? La Fondazione non è presente soltanto a Fano, c'è un territorio più ampio, più vasto, ha certamente come punto di riferimento Fano, ma non solo. Se si dovesse fare un augurio in questo momento, che tipo di augurio si farebbe? Di aiutare a migliorare la nostra città e il nostro territorio, di contribuire, di dare un contributo per crescere.